Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, oggi vi spiegheremo come fare squat, ho portato qua con me due squattisti di eccellenza due, tre mie trepi più forti in assoluto nello squat, c'è Alberto Casono e Matteo Moretto, li conoscete entrambi lui è quello che grida le cose stupide su Instagram, lui è quello che squatta un sacco di chili, in realtà ne squatta un sacco anche di lui anche di lui, anche lui e quindi oggi voglio usare loro come cavie e ci sarò anche io come terzo, un pre-sandy squat e vi faremo vedere un pochino anche in funzione delle leve, abbiamo tutte e tre leve diverse, come impostare l'altata vuole essere un tutorial veramente completo con tutte quante le fasi dello squat, così che possiate andare in palestra a fare un nuovo PR partiamo dal setup, come si prende il bilanciere e come si approccia il bilanciere in uno squat intanto dobbiamo cercare di essere il più simmetrici possibile, senza impazzire per fare le cose precise al centimetro però il più simmetrici possibile, prenderemo un'ampiezza con le mani alla stessa distanza regolandoci in funzione della distanza, o dagli 81 o dall'inizio della zigrinatura quindi prendi il bilanciere, lui ad esempio usa il pollice per valutare la distanza e mettere le mani esattamente alla stessa distanza ora ci infiliamo sotto il bilanciere, ora in funzione anche del nostro stile di squat e delle leve decideremo se usare una posizione low bar, che è quella che sta facendo lui in questo momento oppure high bar un pochino più alta, prova a far vedere l'high bar, vai ok, questa è la posizione high bar, nell'high bar poggiamo sopra il trapezio, sarà uno squat più verticale, più quad dominante vai sotto, nel low bar invece poggiamo sul deltoide posteriore, sarà uno squat un pochino più inclinato e un pochino più dominante di catena cinetica posteriore 9 persone su 10 sono molto più forti di low bar, quindi in gara tipicamente si usa questo la biomeccanica dell'esercizio è la medesima, cambia l'inclinazione solo perché cambia la posizione del bilanciere rispetto al piede un altro punto molto importante da non sottovalutare che fa parte del setup del bracing e tutto quanto è di tirarsi il bilanciere sulla schiena, come se lo voleste piegare e rompere in due sopra i vostri trapezzi quindi non mettetevi sotto completamente morbidi e rilassati altrimenti se il tronco e l'upper back sono troppo morbidi quando andiamo a spingere, abbiamo un carico forte che grava su di noi spingiamo forte con le gambe, tenderemo a chiudersi in avanti invece facendo bene la manovra di bassa alba respiriamo, compattiamo con tutta la nostra forza gli obliqui e tirando forte il bilanciere dentro la schiena in modo da contrarre ad utilizzare anche i dorsali per rendere il tronco rigido diventeremo molto duri in questa zona e riusciremo a trasmettere meglio la forza al bilanciere da qua il passo successivo abbiamo detto essere il bracing quindi respirare, un bel respiro diaframmatico profondo contrarre gli obliqui e poi dopo possiamo tirare fuori il bilanciere ora albi ha 70 kg, però lui scuota con più di 250 kg quindi questa fase è molto importante compattare bene il core, sollevare con calma, aspettare che il bilanciere si stabilizzi e come avete visto ha fatto solo 3 passi e si è posizionato in maniera equilibrata e stabile quando si tratta di walk out è molto importante comprendere una cosa bisogna dissipare quanto meno energia possibile prima di fare lo squat in modo che ne abbiamo il più possibile per il gesto di gara dobbiamo fare un gesto di gara o per la serie allenante non necessariamente solo in gara se fa lo squat ovviamente dobbiamo cercare di trovare la nostra posizione che sarà determinata da come ci troviamo bene e dalle nostre leve con 2 massimo 3 passi il tutto preservando l'equilibrio abbiamo visto un po' velocemente come ha fatto Alberto il suo walk out ora vi faccio vedere l'esempio di una persona più longilinea che quindi avrà verosimilmente bisogno di tenere le gambe più larghe per avere uno squat efficiente stesso percorso di prima io prendo molto più largo di lui quindi il mio riferimento per esempio è l'indice sugli 81 e faccio high bar mi ripoggerò un po' più alto respiro nel profondo diaframmatico e contrago il core stacco aspettiamo che il bilanciere si stabilizzi 3 passi 1 dritto indietro ora ho avuto fretta quindi ho toccato il rack il mio motivo per fare il passo dritto indietro è non beccare il rack 1 diagonale e poi dopo mi apro in questo modo con 3 passi ho esattamente la posizione corretta che devo avere nello squat dobbiamo cercare di avere un workout sempre uguale in modo di essere sempre nella stessa posizione più efficienti possibile e da qua possiamo iniziare il nostro squat il modo esecutivo nello squat è ampiamente influenzato dalle leve dell'atleta ad esempio Matte è un atleta molto grevilineo ha i femori corti quindi il suo squat è uno squat che in gergo si dice molto di gamba a lui ripaga molto una buona verticalità riesce a sfruttare molto bene i quadricipiti a rimanere verticale e a mantenere anche molto sotto il bilanciere in generale però le logiche che si seguono nell'esecuzione dello squat sono sempre le stesse quindi mantenere il peso ben centrato sul centro del piede se guardiamo lateralmente la traiettoria la proiezione del bilanciere deve ricadere sempre al centro del piede per essere in equilibrio dobbiamo scendere con controllo caricando bene le anche e tutte quante le strutture delle nostre gambe grande adduttore, gluteo e buca vedete come lui si appoggia bene sui muscoli delle gambe per poi dopo spingere forte, imprimere forte con la schiena forza contro il bilanciere in questo modo utilizziamo sia la gamba con la spinta che gli estensori dell'alta per mantenere sempre le anche alla stessa distanza come vedete lui scende e risale ma le anche rimangono sempre alla stessa distanza dal bilanciere questo è fondamentale bisogna concentrarsi in fase eccentrica quindi di discesa sul caricare bene i muscoli per prendere una risposta elastica dalla buca e rimanere ben centrati sul piede nella fase concentrica viceversa come vi dicevo dobbiamo spingere forte con le gambe spingere forte con la schiena contro il bilanciere e non far scappare indietro le ginocchia troppo presto che è l'errore più importante, più comune nello squat ora vediamo l'esempio di Alberto che ha albi, mi sembra strano chiamarti con il nome completo che anche lui ha delle ottime leve per lo squat però ha femori più lunghi rispetto a Matteo quindi vedrete che posiziona i piedi più larghi più aperti tra di loro e si inclina molto di più in avanti però se lo guardiamo dal lato preserva comunque la linearità tra il bilanciere e il centro del piede e la dinamica è la stessa il ginocchia lo scappa all'indietro e pianta bene la schiena contro il bilanciere ora come ultimo esempio prendiamo me io sono molto longilineo ho delle leve molto sfavorevoli per lo squat e quindi devo attuare un po' di modifiche nell'esecuzione e una dinamica dell'alzata per cercare di renderla il più tollerabile possibile avrò probabilmente i piedi più larghi dei tre dovrò aprire un po' più in fuori le ginocchia in modo da mantenere una verticalità migliore e dovrò inclinarmi un pochino di più in avanti per poter mantenere il bilanciere sul centro del piede perché dato che il femore è molto più lungo altrimenti dovrei spostare le ginocchia molto 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 in avanti serve una mobilità della caviglia pazzesca e diventa inefficiente il movimento quindi necessariamente chi è longilineo dovrà inclinarsi di più in avanti siamo arrivati alla fine di questo video spero che vi sia stato utile se sì ricordatevi di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale ho intenzione di fare tanti altri video tutorial che sono i video che fanno più visualizzazioni in assoluto sul mio canale quindi di certo vi piacciono spero che questo video vi aiuti a comprendere anche quali sono le diverse impostazioni in funzione di come siete strutturati voi qual è la vostra struttura andate in palestra, provate queste accortezze fatemi sapere qui sotto se avete ottenuto i risultati che speravate ciao ragazzi, il tutorial, sì ti si vede sei lì morta tipo un cadavere nell'angolo in effetti sì, questa la lascio comunque nel video questa, questa la lascio dove sei? morta